La testa di Perugia per corruzione che coinvolge il pubblico ministero Luca Palamara, perquisiti casa e uffici del magistrato, indagato anche un altro componente del CSM, illazioni sulla nomina del procuratore di Roma, il commento del presidente dell'ANM, Grasso. Sentiamo Elena Fusai. Grazie. Il advogato del CSM Spina dice sono disponibili a chiarire. Sul registro degli indagati, riportano alcuni quotidiani, ci sarebbe anche un altro magistrato. Sotto inchiesta per corruzione l'imprenditore Fabrizio Centofanti e gli avvocati Pietro Amara e Giuseppe Calafiore. Nell'avviso di garanzia viene riportato che i tre avrebbero corrisposto viaggi e utilità varie, tra queste pure un anello, anche a familiari e conoscenti di Palamara. Notizie che l'ANM non commenta. La magistratura svolge il suo ruolo istituzionale nei confronti di qualsiasi soggetto, fa sapere il presidente dell'Associazione Grasso. E in merito alla vicenda che sui giornali si interseca con quella della nomina del nuovo procuratore di Roma, precisa non c'è nessuna correlazione tra la nomina che il CSM dovrà fare alla procura della Capitale e l'inchiesta di Perugia. Gli elementi emersi finora sono mere illazioni. Luca Palamara già ieri aveva chiesto di essere interrogato al più presto per chiarire la sua posizione.